Raffaella, 55, la mamma e la blogger. Il bicchiere è sempre mezzo pieno, razionalmente ottimista. Penso di essere ancora una ragazza tra i 20 e i 30. Sulla mia testa l'età è un po' più avanzata. Provavo più capelli nel pettine. Cambiavano proprio dimensioni, diventavano più sottili, più spenti. Ho fatto un trattamento di circa 28 giorni. Adesso, quando faccio la coda, ho la mano piena di capelli. Più grossi, più densi, più belli. Consiglierei Dercos assolutamente. Io mi sono provata bene. Sono contenta, sono molto contenta. Approvato dai miei capelli.